La settimana prossima, quindi vi faccio sicuramente la prima settimana fuori del nuovo Grand Prix. Ok. Devo solo capire se avrò questa cacchio di macchinina, perché sennò il suo gioco lo mando solo a fanculo. Perché non è possibile. No, ma perché c'è, scusami, che ti applichi a fare se poi devi aspettare tutto questo tempo per avere una cacchio di macchinina? Eh, l'ho fatto perfetto. In effetti, sì. C'è una palla. Vabbè. Comunque io mi dovrei ricollegare tra più o meno 40 minuti e un'oretta massimo. No, ho perso il sacred. Eh, va bene. Io... Vedo gli imboccati anche. Se sono qua, un piacere cerchiamo. Ci dovrei essere anche domani la mattina, perché parto la sera, quindi ci potrei essere. Probabilmente sì, oggi non ho fatto il per cinque, vabbè. Tanto sto 80.000 monete, penso siano sufficienti per il nuovo Grand Prix. Io ne ho 170.000. Forse era di più. Direi che sai. Comunque. Aspetta, tu quanto hai fatto in Dragon's Mines? Eh? Minere di Drago quanto hai fatto? 1.30, aspetta, non ti dico. No. Perché tu quanto fai? Beh, ho fatto 28-29 come i primi due giri, ora però... Non mi sa che... Non ce la faccio sotto 1.30. E invece mi sa di sì. 1.29.15. Vaffanculo, mi hai già battuto.